Prepararsi all'incontro con il Signore in un clima di conversione e di penitenza, ma sempre con la gioia nel cuore. Papa Francesco, commentando il Vangelo all'Angelus, ha indicato la strada da seguire per l'Avvento, un momento favorevole, ha detto, per pregare con intensità, per essere più attenti alle necessità degli altri e per aprire strade di speranza nel deserto dei cuori aridi di tante persone. Tutto questo però impone atteggiamenti di mitezza e umiltà, perché vanno arginati l'orgoglio, la superbia e la prepotenza. Dopo la preghiera mariana, il Papa ha ricordato il prossimo vertice sul clima di Parigi, invocando decisioni efficaci anche per combattere la povertà. Nel suo cuore le famiglie indiane colpite dal ciclone Hochi e la popolazione albanese provata da gravi inondazioni. Quindi il suo appello è in occasione del conferimento del Nobel per la pace alla campagna internazionale per abolire le armi nucleari nella giornata ONU per i diritti umani. Impegnarsi per la tutela della degnità di tutte le persone, in modo particolare di quelle più deboli e svantaggiate, significa anche lavorare con determinazione per costruire un mondo senza armi nucleari. Dio ci dona la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. Abbiamo la libertà, l'intelligenza e la capacità di guidare la tecnologia, di limitare il nostro potere al servizio della pace e del vero progresso.